Grazie a tutti. Grazie a tutti. Secondo, Gran Biscotto Romagnati. Ma non sarò da solo, sarà con me uno chef, uno chef che lavora qui, italiano. Indovinate chi sarà. Siamo qui al Bicot e qui c'è Gennaro Nasti, chef e pizzaiolo. Ma che pizzaiolo? È anche un mio amico. Andiamo a trovarlo. Ciao, Gennaro. Ciao, mamma mia. Come stai? Benissimo, un po' freddino. Un po' freddino. È Parigi. Io sono curiosissimo di vedere che panino farai. Allora, aspetta. Prima ti porto nel cuore di Parigi. Quindi mi fai un po' attendere questa cosa. Andiamo a vedere. Accomando il Max. Grazie. Buongiorno. 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 Mi ha portato una bologna tipica francesa. Buongiorno. Mi ha portato una bologna tipica francesa. Buongiorno. 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 E adesso andiamo a gustare un po' di pane tipico francese. Viens, Gennaro, io vi mostro. Quindi, noi fabriquiamo qui solo di pane con le levain. Le levain è molto importante per il gusto e anche per la digestione. Buongiorno, per tutti i raggiungi del gluten, è importante trovare le fabbricazioni tradizionali, e il levain è molto importante. Abbiamo molti tipici di pane, anche con le farine anche con le farine. E vi faccio vedere delle cose che sono rari. Perfetto. Allora, potremmo, cominciamo con il Petit Epotre. Il Petit Epotre è un po' di pane piccolo. Ah, che bello, senti che è croccante. Che bello. Lo metto sempre molto compatto. Allora, vediamo che è una farina che è un po' di pane piccolo. Ah, è fantastico. Allora, devo provare molto bene. E lì ho apportato le farine, e possiamo vedere la differenza di colori. E le farine, le farine, hanno più di colori, ha più di nutrienti dentro, è meglio per la salute. Allora. Questo è il Petit Epotre è un po' di pane piccolo. Il Petit Epotre è un po' di pane piccolo. Cioè, normalmente pensiamo che sia solo baguette il pane francese. Invece qui... Un po' di pane piccolo. Certo. È molto buono per la salute, con molti nutrienti. E è molto, molto raro. Questo sembra già più compatto. È molto più... Sì. E questo, è molto più compatto. È molto più compatto. È molto più compatto. È molto più compatto. Certo. 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 Un panino con i nostri prodotti italiani e con il pane francesco. Questo è fantastico. È fantastico. Ah, sta prendendo la regina. La regina. La regina, dai. La regina. Allora, abbiamo fatto la baguette anche, la baguette tradizionale, ma è importante per noi, e soprattutto, di fare le panne con la metodo ancienne. Non c'è solo la baguette in Francia. No, senti. Altro con le cose congelate. Allora, io rompo. Stupendo. Stupendo. Noi ti lasciamo con il sapore della baguette. E, beh, a tutta l'ora. A tutta l'ora. A tutta l'ora. Grazie, grazie. Grazie. Ciao. Qui dove siamo? Eh, qui siamo... sull'altare di Parigi. Ma perché la scelta di Parigi? Qui siamo... siamo nel regno della cucina mondiale, diciamo che... Dimmi in poche parole il girotto che hai fatto prima di arrivare qua. Vabbè, io prima sono stato a Barcellona, ho fatto un po' gli Stati Uniti, poi dopo sette mesi di California sono tornato qui in Europa e sono rimasto per un mese a Napoli. e poi ho avuto una consulenza qui a Parigi e ci sono rimasto. Ci sono rimasto. Qui è difficile perché poi, diciamo, non hai trovato terreno fertile. No, assolutamente no. Nel senso che loro sono abbastanza resuntuosi, sono bravi nel fare la panificazione e così, quindi... Non è stato facile far capire che la tradizione napoletana si può evolvere nel seguito degli anni. Infatti è quello che ho creato qui. Voglio far capire che ci sono dei prodotti a sud che sono fantastici. Quindi ti senti proprio un ambasciatore vero e proprio... Io mi sento un ambasciatore di piccoli contadini, di piccoli produttori di prodotti campani, non campani, basta che sono buoni e che ci possono rappresentare. Andiamo a provare questo panino, dai. Fammi questo panino. Andiamo. Finalmente questo panino mi fai, dai. Siamo al Bijoux, al tuo ristorante. Forno, il banco per fare la pizza. Come lo fai? Per tutto una cosa importante, tu giochi sporco perché tu fai il pane lo fai te. Eh certo. Quindi giochi infarinato. Bello infarinato. Così stimolano i ragazzi. Però mi raccomando, questo ci deve essere. L'ambiscotto ci deve essere. Adesso, spiegami un attimino quello che fa, perché qua vedo dei vasetti. Sì. Dimmi, c'è l'impasto? La prima volta che vedo che si mette l'impasto all'interno di ogni singolo vasetto. Allora, ti spiego subito. Questo qui non fa frigo. Sì. Siamo sulle 40 ore di lievitazione, pochissimo lievito e siamo sul 90% d'acqua. Farina? Farina di semolo di grano duro. Senti, che idea è venuta? Che cosa ci vuoi mettere dentro questo impasto? Ho creato un piccolo hamburger di prosciutto cotto, delle puntarelle, una maionese di San Marzano e dei pomodori in semi secchi. Andiamo? Che bontà. Dai, forza inizio. Ciao, ciao. Grazie a tutti. Che ne pensi? Serie A. Serie A. No, poi ricorda leggermente la puccia. Bellissimo, stupendo, bello. Ma poi la magia di vedere che sfoga, che cresce dentro al forno. Tutto vivo. Tutto vivo, è proprio vivo. Taglia, taglia. Mangiamo. Hai ragione. Sarà dura, eh? Sarà dura per i ragazzi, eh? Sì, vabbè. Sarà dura per i ragazzi, eh? Ma diciamo che sono stati molto semplici, eh? Beh, la semplicità, purtroppo, qua non ti perdono, perché qua è tutto quanto a materia prima. Materia prima e rispetto alla materia prima. Vi taglia un altro pochino a metà, dovevo esagerare un pezzettino, dai. Bravo, così. Vai. Guarda che profondo che c'è. Il pomodoro che si scalda. Cioè, l'erbaceo proprio, anche la puntarella. È bella, che noi la chiamiamo Catalogna quando è così bella, fantastico. Perfetto. Vabbè, così. Assaggio, vado, eh? Assaggia. Com'è? Dolcezza. Un po', si sente un po' il gusto della legna, insomma, della legna. Poi, questa lapuccia che proprio è una nuvola. Fantastico. Proprio un equilibrio straordinario, Gennate. Devo fare dei complimenti. Buonissimo. Buonissimo veramente. È un bello stimolo questo. Eh, la croccantezza, tutto. Ci stiamo? No, croccante, eh, vuoto, eh, tutto. Una nuvola ripiena. Va bene in questo modo il complimento? Eh, detto da te è un complimento, eh? Buonissimo, buonissimo, buonissimo. Benvenuti a tutti alla sfida del panino gourmet. Uno di voi andrà alla finale di Milano. Abbiamo delle regole ben precise. La prima è il pane. Quindi ognuno di voi dovrà usare il pane come contenitore di questo panino. La seconda, protagonista assoluto, è il gran biscotto Romagnati. Poi avete a disposizione verdure fresche, erbe aromatiche, formaggi, carni fresche e spezie. Ragazzi, prima di partire con il vostro panino, assaggiate il mio panino. E da lì prendete i vostri spunti e il vostro saquaffè. Grazie. Adesso che avete assaggiato il panino di Gennaro, avete il giusto stimolo per fare il vostro panino. quindi, 3, 2, 1, via! Rémi Etcheri, 31 anni, di Paris. Io sono attualmente in formazione cucina tradizionale e contemporane a l'Ecole Ferriere. Se io voglio fare questo concetto, è perché stiamo che la cucina italiana e la cucina francese sono intimamente liate e il panino, è la rappresentazione. Buongiorno, sono Junior Albas, sono haittista, sono in francese durante 2 mesi, per la formazione di cucina a l'Ecole Ferriere. Ho participato al concours Panini, è la mia motivazione, e mi piace molto la cucina, e mi piace molto la cucina. tutti quanti usano per base la cipolla, tutti, 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 tutti. Loro due hanno fatto due basi simili, diciamo, con la cipolla, e lui ha fatto una sorta di fonduta, dove ci ha messo dentro un po' di cipolla e il formaggio, il brino. Chi sa che mi utilizzeranno il prosciutto. Buongiorno, mi chiamo Maxime, ho 23 anni, io vieno di Paris, oggi ho partecipato a un concours di Panini per rapporto al Shambon, e se ho fatto questo concours è perché il Panini è qualcosa che ho mangiato quando ero piccolo, e che ho molto appreciato, e ora spero che io vengo perché il Panini è molto bello, con una bella presentazione, e lo gozo, spero che lì sarà, e questo è tutto. Buongiorno, mi chiamo Michele Seche, io vieno di Paris, ho 25 anni, mi chiamo all'Ecole Ferriere, per formazione in quanto cuisiniero, e questo è il concours di Panini è tutto per l'amore della cucina. Tutti lo stanno vociando il crociutto, è tipo bistecca, no? Sì. Tu sei divertente? Sì. Però che sta facendo il ragazzo? Sì. Un sushi. Ah, un sushi di Cisper, si sta facendo? Sì. Comunque, è fantastico il modo di interpretare la cucina, a secondo i paesi, no? Sì. Ciao, Ciao, sono Eddie Benvana, ho 집고erà 25 anni, e oggi vengo perché il mio Panini è il migliore. E questo è il migliore della cucina. La cucina di Cisper, è il migliore della cucina, ma città in quanto riguarda la cucina, è il migliore della cucina, ci sono i migliore della cucina e il migliore della cucina. La cucina è il migliore della cucina, il migliore della cucina, è il migliore della cucina. C'è rimasto poco tempo, una 10 minuti, quindi devono essere abbastanza veloci adesso. 3, 2, 1, il tempo è terminato, adesso passiamo all'assaggio, bravi dai, forza, vediamo un po' che vi decombiniamo. Avete finito i vostri panini, adesso noi li assaggeremo e di questi 5 panini uno sarà scelto da noi e verrà a Milano. Quindi chi è il primo, sederemi, vai col panino. Panino, gran biscotto, alla verdura. Bravissimo, e buro. Vai, allora che cosa c'è dentro? Una croce di verdura, al thym, alla rocchette, al persil, con un confit d'oigno, al vino licorato, il grande biscotto, con un sèvro che è fiumato con l'ail, dell'échalote e dell'oigno. Ti faccio assaggiare il panino, tieni, Gennaro, uno a te, un pezzo a te, un pezzo a me. Il fumo si sente, eh? Sì. L'affumigato. Anche la nostra cipolla confì, no? Buono. 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 Anche se ci sono molti ingredienti all'interno, però c'è l'equilibrio tra il formaggio, tra la cipolla, le verdure. Non si sente. Non si sente tanto, non è aggressiva. E sono bravo perché con le verdure e anche con l'affumigato, tutto, l'affumigato non è invadente, ma tutto è molto equilibrato. Bravo. Bravo. Vediamo adesso i prossimi. Junior. Panini, jambon, mousse di brì alla graine de motade. Alors, io faccio il formaggio. Après, io faccio la sauce maison, con ketchup e mayonnaise, con un po' di graine de motade. E poi, io faccio un confit d'oignor con vin rouge. Io metto anche una couche di jambon, ma il jambon lo faccio marinare con l'ail, del persil, del thym, con l'huile d'olive. E poi, io faccio una couche di fromage, una couche di jambon, una couche di ognon, una couche di sauce maison. E poi, dopo, un po' di conichon, e c'è tutto. Grazie. Loro hanno fatto veramente delle ricette. Hanno elaborato delle ricette delle proprie. Perché, visto come ha cotto il gran biscotto, l'ha continuato a dargli gusto, sapore, con la marinata dell'olio, con la sergine d'oliva e tutte quante le erbette. Guarda, faccio pure così, guarda. Ecco, dai. Sei gentile. La merendina, dai. Sei gentile. E poi, ecco, mi piace così. Quando sono pieni i marini, è vero? È un'altra storia. Il gran biscotto la fa proprio da padrone, eh? Lo senti proprio? Sì. Non viene... Secondo me la marinatura è stata... L'hai saltato. L'hai saltato. Grazie infinite. Grazie, bravo. Grazie. Bene. Quasi 20. Buono, perché alla fine la bocca è pulita. In due l'ampocchi al prossimo? Max. È Max. È Max. Vai. Allora, oggi vi ho fatto un panino con asperge, enroulé con jambon, una salsa hollandaise, con una tomba d'epinoram su e un gratin di mentale. È interessante perché lui è stato molto, diciamo, tra virgolette, uno dei più essenziali. Sì, molto diretto, sia con la verdura che mi è piaciuto. Sempre centrale, guarda, così. Ecco, questo lo mettiamo qui. Ah, poi ha fatto una cosa buonissima. Non l'hai vista te? No. Quando lui ha fatto, a mo' di bruschetta, ha messo l'aglio strofinato, l'aglio strofinato, tieni, l'aglio strofinato, poi l'ha messo a gratinare il panino. Certo. Vai, andiamo. La salsa rondese, poi, io l'amo. Cottura degli asparagi, perfetta. Buono. Buono. Buono, Max. L'aglio non si sente. Niente, per niente. Te l'ho visto. Ma sai che cosa c'è? Qui forse manca una nota di acidità. È vero? Sarà molto dolce, è molto dolce. Manca appena appena una nota di acidità. Però è un buon panino. Vabbè, qui si può avere tutto, no? Perfetto. No, ha fatto un buon panino. Grazie, Max. Grazie, Max. Lo sai chi è il prossimo? Lo puoi chiamare per cortesia tu. Dai. Lo chiamalo tu, dai. Michel, vai. Ciao, Michel. Allora, c'è un panini che ho fatto con il jambon. Il jambon, io l'ho fatto con il céléri e l'ail. Senti. Senti. ho visto l'uso di veramente di formaggio nella maniera qua c'è anche una bella fonduta ok è più grande è perché io ti voglio bere grazie alla vado la foglia di timore stupitaggio l'indipio belga sta da paura qua dentro sta benissimo si sente bene anche il gusto del pane michel grazie grazie e per il momento complimenti edil vieni dai che c'è l'ultimo e non si sa mai l'ultimo potrebbe essere anche primi certo c'è un panini veramente alla française con gli escargoli per rappresentare la france di rocfort in un blu che sembra un po' gorgonzola ma che è un po' più forte e ho fatto come una crema e un po' di persil di cibullo è per fare un po' di refor a la fine per dare un po' di carattere al sandwich e faro panini parlo e voilà il jambon e il jambon esattamente essi che non la prepara a me piacciono molto il nome che vado pazzo effettivamente di scaricoso stupendo buonissime belle cicciotte ti do come al solito adesso stavolta è pari ne hai fatto piccolo eh uguali perché se no potete... così assaggiamo il rocfort è buonissimo buono buono dobbiamo ripetere rapidamente qua che ci hanno messo un po' in difficoltà ragazzi tanti elementi, altri ingredienti però... giusti molto diversi giusti molto diversi grazie Edil grazie 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 ragazzi complimenti a tutti veramente adesso ci mettiamo un pochino di tempo io e Gennaro per decidere chi viene con noi a Milano quindi vi farete una bella passeggiata in Italia e uno di voi farà la finale in Italia ragazzi è stato veramente complicato selezionare un vincitore di questa tappa c'è stata quasi una semifinale fra i cinque che ci hanno messo in difficoltà veramente però solamente uno arriverà alla finale del premio Food Academy di Romagnati quindi sei pronto? lo dobbiamo fare 3 2 1 Maxime Maxime complimenti bravo vai digli anche perché abbiamo scelto qua il sandwich è molto buono e si tratta sull'ingrediente e sul pane è esaltato alcuni prodotti nel senso c'è stata quando mangiamo il tuo manino sentiamo bene tutti quanti gli ingredienti cioè si capiva perfettamente l'asparago e lo zucchero il prosciutto la salsa holandese si sentiva tutto tutto si riuscì a capire tutto quello penso che sia una nota positiva è estremamente positiva sei stato bravo sei stato bravo bravo con te ci vediamo a Milano ma con voi ci vediamo alla prossima tappa sfida al panino gourmet seguiteci mi raccomando arrivederci da rovagnati food academy